Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e in FIPILI. Guidare con prudenza per la pioggia in A12 tra Pisacentro e Rosignano, in A15 tra Pontremoli e l'allacciamento con l'A12 e in FIPILI tra Empoli e Livorno e tra la diramazione per Pisa e Pisacentro. Ancora in FIPILI possibili disagi per lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa in entrambe le direzioni. A Firenze per quanto riguarda la tramvia a lunedì 30 agosto la linea T1 sarà interrotta dalle 19 fino alla fine del servizio nel tratto Piazza Batoni-Portal Prato per una manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!